Cosa guardate? In fondo guardate qua? Come sono quelle? No, cosa c'è qua? Cosa è questa? Questa è? Sono foglie di posidonia. Quando andate nel bosco, cosa calpestate? Come sono le foglie? Foglie zette, no? Queste cosa sono? Foglie di posidonia. E' una pianta e quindi la pianta interna è la foglia. Per delle foglie perché viene portato, magari ci sono il mare che gliele toglie, oppure eventualmente è più stascia. Ci sono le albe. Sei? Vedremo tantissime. Allora, ragazzi, andiamo in acqua. In modo che così abbassiamo anche un po' la temperatura corporea. Cioè, qua non è la temperatura dell'acqua. E se non è che si fresca di quella fuori. Anche perché noi ora siamo abbastanza scaldati. Ok? Le maschere non avete già sbuttate particolarmente perché non ho messo l'occurale. Vabbè, allora sbuttatevi la maschera. Attenzione, attivano. Sbuttatevi le maschere. Ok? Adesso, quando arriviamo alla venta, adesso un'acqua mi sembra una preppa. Sbuttatevi. Allora, adesso andiamo. Vi ricordate? Come non ce l'hai un compagno? Mi serve un compagno? Cammini a fare la velina. Chi è che si offre? Allora, sono in tre. Chi è che vuole fare il compagno? E quindi vi aiuta. Chi è che aveva i compagno? Quagno. Chi è che ti sono veni? Con quien? Con qualsiasi che intềoh una accrazione di casa? Facciamo un po' di cordura. Grazie.